A me piaceva molto sedermi sulla sedia e dire motore azione, che potrei farlo ancora oggi, quando mi hanno detto facciamolo al film, sì, se mi fate dire motore azione soltanto io lo faccio. Io penso una volta che avrei fatto se non facevo il cinema, penso che, non lo so, non credo, il medico no, perché l'ho rifiutato, ero al manicomio di Voghera, a fare il medico e ho detto no, e allora ho scelto un manicomio più divertente, che era il cinema, dove le ragazze erano carine.